Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Ciascuno di noi ha dentro di sé una paura originaria, una fragilità originaria, la paura di non essere adeguati, di essere sbagliati. Di fatto è incarnata un po' nel racconto della Genesi. Mentre Dio vuole scendere a passeggiare alla brezza della sera in compagnia dell'uomo e della donna, per la nostra fragilità noi abbiamo paura. Ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Tendiamo a nasconderci. Oggi nel Vangelo Gesù ci dice una verità che, se la capiamo bene, è profondamente liberatoria, cioè non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Agli occhi di Dio noi siamo un libro aperto. Il Signore vede dentro di noi, vede quello che siamo e vede che è una cosa molto buona. Noi possiamo sbagliare e possiamo sbagliare anche tante volte, anche gravemente, ma non siamo sbagliati. E questa è la verità profonda che ci porta a un ottimismo e a una speranza quotidiana della bontà originaria di ciascuno di noi. Dobbiamo accorgerci della nostra fragilità e di questo timore che abbiamo, ma non avere mai paura della verità su di noi. Giovanni Paolo II diceva a volte che la frase che più amava di Gesù era «Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». E questo ricorda una pagina poi della prima lettera di Giovanni che dice «Per quanto il cuore possa accusarvi di peccato, Dio è più grande del vostro cuore e Lui sa tutto. Noi possiamo riposare in questa conoscenza che Dio Padre ha di ciascuno di noi, di me, e sapere che proprio oggi, conoscendo chi sono, anche nel momento specifico in cui mi trovo, il Signore mi benedice».